È di oggi la notizia che il turnover degli insegnanti dall'Università di Genova potrebbe compromettere anche le sedie esterne. C'è effettivamente questo rischio anche per l'aspetto? Il rischio c'è, come in questo qui è un paese strano dove non si riesce mai a capire dove finisca la tattica e dove inizia la strategia. La strategia non c'è mai, da quello che ho capito in questo momento c'è un problema che doveva essere, mi avviso, affrontato molti anni fa che è quello banale del fatto che le persone vanno in pensione e che devono essere sostituite. Evidentemente questo non è successo né nell'Università di Genova né nell'Università di Trieste e di Napoli tant'è che tutti i corsi di ingegneria navale che si fanno in Italia, nelle tre università italiane che le fanno, sono tutti quanti in grossa difficoltà. Le persone vanno in pensione e le leggi attuali non consentono la sostituzione di questi professori che vanno via. Risultato, se non ci sono i professori non si possono fare gli insegnamenti. Ora, l'osservazione che ho fatto io ieri anche a vostri colleghi, trovo veramente difficile pensare che un sistema industriale che fattura molti miliardi all'anno di fatturato proprio nella costruzione sia navale sia nautiche non trovi le risorse assieme ai ministeri per tenere in piedi questo sistema che, ripeto, è un sistema che esporta gran parte del suo prodotto. Io quindi ho difficoltà, onestamente, a pensare che non si trovi una soluzione a questo problema. Ritengo che adesso ci si stiamo muovendo con molto ritardo per la verità ma che le soluzioni verranno trovate o con l'aiuto dell'industria o semplicemente con un ripensamento nell'ambito di quello che è il ministero e le università ma che questi 15 professori, perché questi sono i numeri che serviranno fra tre anni, si possano trovare perché le intelligenze ci sono, i professori ci sono, hanno le pubblicazioni fatte, basta semplicemente avere il punto organico e poterli pagare. Anzi, pagare la differenza tra il loro attuale stipendio e quello di professore associato che poi alla fine è veramente una miseria nella cosa. È comunque non comparabile con quelli che sono i vantaggi che vengono fuori dal fatto che noi oggi esportiamo queste intelligenze e francamente è risulta quasi impensabile che oggi le esportiamo e domani le dobbiamo importare quando abbiamo un'industria che è la prima al mondo.